Gentili telespettatori, buona giornata. La proposta della Lega è una proposta del secondo partito della maggioranza che esprime anche il vicepresidente del Consiglio. Possiamo definirla una proposta del governo, anche se ci che specifica. No, non è del governo e di Salvini. È del governo. La proposta di 10.000 riservisti. Il PD dice, ci avrei giurato, ci avrei giurato, lo sapevo, lo sapevo, stavo solo aspettando la notizia, la sparata del PD, la Gladio della Lega. Gladio e Legio. Che cos'erano Gladio e Legio? Erano organizzazioni segrete paramilitari con il compito di guerriglia e controguerriglia nel caso di un imminente, si dava per certa, invasione dell'Unione Sovietica per il nord Italia. Negli anni 70 si era sicuri che l'Unione Sovietica stesse per invadere mezza Europa. Avrebbe invaso tutto il nord Italia arrivando fino a Milano. Quindi Gladio e Legio erano delle organizzazioni segrete con il beneplacido degli Stati Uniti, che sapevano perfettamente, dove avevano nascosto armi dappertutto ed erano migliaia di uomini pronti ad intervenire con guerriglia e controguerriglia, una sorta di partigiani moderni nell'imminente invasione dell'Unione Sovietica. Questo era Gladio e c'era anche Legio. E il PD dice che i riservisti chiesti dal governo sono la Gladio della Lega. La Gladio della Lega. Allora, intanto dobbiamo vedere se questa è una notizia vera o no, perché sia a sinistra che a destra sui giornali sparano un sacco di balle, ma balle, balle, balle. Si nascondono dietro le indiscrezioni e ti raccontano quello che vogliono. Eh, ma me l'hanno detto, poi magari non è vero. La Lega propone 10.000 riservisti, come li ha proposti Crosetto, sul modello israeliano e sul modello, credo, anche tetesco. Che cosa vuol dire? Noi abbiamo le forze armate, non abbiamo più il servizio di leva, quello che ho fatto anch'io. Le nostre forze armate oggi comprendono un certo numero di uomini e donne professionisti, che ovviamente in caso di conflitto non sono sufficienti. In caso di conflitto tutti quelli dai 18 anni ai 49 anni devono partire. Poi partiranno anche quelli dai 49 ai 55, poi dai 55 ai 60, poi partono tutti. Questo è in caso di conflitto poi. Le regole saltano. Ecco, facciamo corna. Vengono chiesti 10.000 riservisti perché la situazione internazionale è grave. La situazione potrebbe precipitare da un momento all'altro. Parliamoci chiaro, noi stiamo belli tranquilli, prenotiamo le vacanze, il colloquio di lavoro, dove vado a mangiare la pizza, ma la situazione internazionale non è grave, molto di più. Questo lo sanno i servizi segreti italiani, l'intelligence, lo sa il ministro della difesa, lo sa il governo, lo sanno gli organi centrali dello Stato. La situazione apparentemente ferma potrebbe degenerare all'improvviso. Degenerando all'improvviso avremmo le forze di reazione rapida della Nato, sia navali che terrestri, che aeree. Abbiamo l'esercito, la marina, i carabinieri, che è la quarta forza armata, l'aviazione. Ma sono un certo numero di uomini che servono in tempi di pace, in tempi di guerra, in caso di invasione imminente. Non ci sarebbe tempo per chiamare tutti quelli che hanno da 18 a 49 anni gente che non ha mai preso in mano un'arma, che non saprebbe da che parte girarsi. Non c'è oggi un piano di reazione rapida, se non quello della Nato e quella delle forze armate italiane, o quelle delle teste di cuoio, che possono intervenire in 20 minuti massimo. Per il resto ci vorrebbe tempo. Quindi il governo dice, il governo, Crosetto, Salvini, la Lega, il governo, parliamoci chiaro. 10.000 riservisti che sono già personale in congedo, personale che si è ritirato, che ha fatto il carabiniere e poi ha smesso, ha fatto un altro lavoro. Persone che sanno già usare le armi, che sarebbero richiamati all'improvviso. Ci sarebbe un comunicato a reti unificate che richiama immediatamente tutti i riservisti in caserma. Entro 48 ore devono essere, 48 ore è il limite massimo, ma devono essere praticamente tutti i riservisti disponibili immediatamente, perché a quel punto i riservisti avrebbero un ruolo dietro il fronte, un ruolo di supporto, mentre quelli professionisti sarebbero purtroppo al fronte. Per contrastare un'invasione, un attacco, è una cosa molto intelligente. Da qualcosa di molto intelligente si passa al PD che dice, ci mancava la Gladio Leghista. E voi rimanete un po' così, con la bocca un po' aperta, con il rischio che entrano anche le mosche. Recita proprio un post social del senatore del Partito Democratico, Filippo Sensio. Filippo, Filippo, ma cosa dici Filippo? Ma che caspita dici Filippo? Lui ironizza. Ma questo non è proprio il mondo dove poter ironizzare. Quello che succede in giro per il mondo è gravissimo. Ha due passi da noi. L'Ucraina è a due passi da noi. Israele ha due passi da noi. Non succedono su Marte queste cose. Quindi andare a definire questa una legge che dovrebbero approvare tutti all'unanimità, tutti all'unanimità, tutti all'unanimità. Invece la propone il governo, la sinistra deve dire che è una roba fascista, squadrista, la Gladio Leghista. Ecco, la genialata, la Gladio Leghista. Un po' come se la Lega volesse fare un po' le camice verdi inquadrate come due corpi, no, un corpo d'armata no, una divisione dell'esercito, le guardie verdi della Lega. Insomma, sapevo, ne ero sicuro che saremmo arrivati a questi sciocchi commenti da parte, non da parte di Fava, ma da parte della sinistra. Arrivederci a tutti e grazie.